Bene, aggiungo anch'io il mio grazie ad Omusorobica per questo invito di essere qua. Avrei colto volentieri anche l'invito di venire per la cena irlandese, ma si dà caso che proprio in quei giorni sarò in Irlanda, arriverò alle 11 di sera a Malpensa del 25, quindi non posso esserci, proprio perché il centenario di questa rivolta cade esattamente il 24 aprile e quindi sarò su per alcuni giorni per le celebrazioni ufficiali della commemorazione di questo centenario, che è un centenario un po' strano, nel senso che di fatto si celebra una sconfitta, perché questa rivolta, appunto iniziata il 24 aprile, finì pochi giorni dopo e finì in un bagno di sangue. La rivolta venne schiacciata dagli inglesi, tuttavia fu, come si chiama anche, come prende il titolo anche un capitolo del mio libro, fu il trionfo del fallimento. La rivolta in sé per sé fallì, ma a quel punto lì il sacrificio di quegli uomini, di quei coraggiosi, che in quei giorni appunto rivendicarono davanti a Dio e davanti agli uomini il diritto dell'Irlanda di esistere come una nazione, questo inizio, questo fiume proprio aveva rotto finalmente gli argini, nell'aprile del 1916 non potè più essere fermato e anni dopo finalmente la sospirata Repubblica che era stata proclamata sulle barricate appunto a Dublino la mattina del 24 aprile 1916 diventò un fatto, una realtà. Quindi un paradosso, un fallimento che diventa poi un trionfo. Io aggiungo a poesia, poesia, alla poesia di William Butler Yates aggiungo dei versi brevissimi che sono di quello che fu il primo premio Nobel per la letteratura dell'Irlanda nel ventesimo secolo, pensate che un paese così piccolo ho avuto ben quattro premi Nobel e questo premio Nobel per la letteratura è Samuel Beckett che scrive queste parole che io ho messo proprio in apertura del libro, del primo capitolo. Avete tentato, avete fallito, non importa, tentate ancora, fallite ancora, fallite meglio. Ecco queste parole di Beckett mi sono sembrate proprio la migliore apertura perché appunto la storia dell'Irlanda è una storia di fallimenti, di sconfitte che però inevitabilmente portavano ad un successivo tentativo. Per secoli l'Irlanda ha tentato di conquistarsi la libertà. il mio libro racconta quindi gli avvenimenti di cento anni fa ma parte anche da lontano. Era inevitabile, ho appunto dedicato diversi capitoli a capire che cosa era successo, da dove nasce questa storia, da dove nasce questo cammino verso la libertà e nasce molto lontano, nasce proprio dal momento stesso in cui questa libertà viene perduta. Tra l'altro nel frattempo vedete alle mie spalle scorrere le immagini appunto degli eroi del 16 e anche di alcuni altri personaggi che avevano preceduto. Poi dopo magari qualche volta si può fare anche un fermo immagine magari qualche volta, così magari ci soffermiamo su questi personaggi. E dicevo, noi intanto lasciamo pure andare, io intanto con la coda dell'occhio tengo d'occhio e quando c'è qualche cosa magari dico stop e diciamo due parole di più su queste immagini di queste vecchie foto. Ecco dicevo, è un lungo cammino perché l'Irlanda aveva perso la propria libertà nel Medioevo a causa se vogliamo anche un po' della propria follia, della follia del proprio popolo, dei propri capi e del proprio spirito anche che aveva portato per tanto tempo i vari clan a combattersi l'uno con l'altro. L'Irlanda è l'ultimo van posto in Europa dei Celti, è l'ultimo posto dove la civiltà celtica è durata più a lungo, ha conservato le sue caratteristiche, comprese le caratteristiche sociali appunto del sistema dei clan che è durato in Irlanda e in Scozia fino a quando appunto l'Inghilterra feudale non azzerò questo sistema, che era basato sull'idea che la terra apparteneva al clan, il clan era una famiglia, clan significava i discendenti di un a volte mitico progenitore, per esempio gli O'Brien sono i discendenti del grande re Brian Buru, quello che sconfisse i vichinghi mille anni fa e così via. Però il sistema dei clan aveva un suo limite, che spesso i clan erano in conflitto l'uno con l'altro e molto spesso c'è chi ha approfittato anche di questa situazione. Alla fine del XII secolo i clan, queste lotte tra clan portano uno di questi capi clan, il re, si facciamo anche chiamare re del Leinster, che è una delle quattro province dell'Irlanda, sconfitto da altri rivali, se ne va in esilio in Inghilterra e va dal re d'Inghilterra, Enrico II, che era tanto per capirci, il padre di Riccardo Cordileone ed era quello che aveva anche fatto assassinare Thomas Beckett, l'arcivesco, quindi era uno che aveva un certo pelo sullo stomaco e non si faceva problemi, perfino a uccidere il primate d'Inghilterra. Cosa fa questo Dermot McMurrog, questo era il nome di colui che è considerato il giuda di Irlanda, va dal re d'Inghilterra e gli dice, per favore, fratello, amico, quasi dotato da pari, dammi la mano di conquistare il mio regno, il regno della provincia del Leinster, che è la zona dove c'è Dublino, la zona occidentale. Enrico II dice, va bene, mi dai un pretesto per mettere piede in Irlanda e io lo colgo al volo, così manda in Irlanda un esercito di cavalieri normanni, che erano i più grandi cavalieri del tempo, di arcieri, gallesi, eccetera, e nel giro di un anno conquista l'Irlanda. Tuttavia l'Irlanda mantiene per qualche secolo una sorta di semilibertà, è diventata, come dire, una quasi colonia, però gode ancora appunto di certe libertà, fino a quando con Enrico VIII invece, l'Irlanda sparisce, non è più un regno, è soggetta direttamente al re d'Inghilterra e inoltre Enrico VIII è colui che appunto in Inghilterra introduce la riforma protestante, crea una chiesa fatta a sua immagine e somiglianza, il re, il capo della chiesa e comincia quindi a usare anche la religione come una discriminante per perseguitare gli irlandesi che invece erano rimasti fedeli alla loro religione cattolica. Questo si acuisce con il regno di Elisabetta, la figlia di Enrico VIII e poi ancora con Oliver Cramwell, il secolo dopo, che in Irlanda attua una politica durissima di repressione. Vengono approvate delle leggi penali, proprio penal laws, vengono chiamate così, che durarono, pensate, fino al 1829. Queste leggi penali sostanzialmente volevano distruggere l'identità irlandese, a cominciare dalla cultura, a cominciare dalla lingua, la lingua irlandese, il gaelico, viene messa fuori legge. Parlare gaelico significava essere arrestati, imprigionati. La cultura, diciamo, perfino quella musicale, le arpe, che erano lo strumento per eccellenza dei bardi, che col suono dell'arpa raccontavano le storie, le genealogie, le antiche saghe, i miti, eccetera, eccetera, vengono perfino distrutte le arpe, vengono sequestrate, portate a Dublino e viene fatto un enorme, terrificante rogo in cui bruciano tutte le arpe. E poi viene proibita, viene messa fuori legge la religione cattolica. Vengono distrutte le chiese, infatti chi va in Irlanda avrà visto appunto queste bellissime ma tristi, tragiche, rovine di antiche cattedrali che sono, vennero distrutte, per lo più incendiate e le messe venivano celebrate, fu così per tre secoli, clandestinamente. Venivano celebrate quindi nei cimiteri di notte, nelle case private, di nascosto e così via. L'Irlanda quindi viene posta letteralmente in catene, è un popolo in catene, a cui si cerca di non solo togliere la libertà ma quasi anche di strappare l'anima, appunto l'anima profonda, l'anima religiosa, l'anima culturale. E l'Irlanda mette, o meglio gli irlandesi mettono in atto una straordinaria opposizione a tutto questo. E non solo tenendo viva, tenendo accesa potremmo dire appunto la fiaccola della fede o dell'identità, tentando, cercando appunto di parlare ancora la loro lingua, di suonare ancora la loro musica, di fare in modo che venga trasmesso tutto questo. In effetti poi grazie al cielo è arrivato fino ai nostri giorni. Quello che accade però è che tutto questo è una mera sopravvivenza ma non basta. Gli irlandesi sentono nel corso dei secoli più volte l'esigenza, il desiderio, il sogno di libertà, di riconquistarsi la loro indipendenza, la loro libertà. E più volte nel corso quindi dei secoli insorgono. Io parto nel mio libro invece da più recente, cioè a un certo punto dalle rivolte che hanno luogo ad esempio già i più importanti, sono alla fine del 600, la rivolta dei, viene chiamata la rivolta dei nobili, dei conti, degli aristocratici, dei capi dei clan sostanzialmente, che poi alla fine vengono sconfitti e questo porta a un dramma che appunto viene chiamato nella storia irlandese il volo delle ocche selvagge perché i capi, tutti i capi, decidono che non possono vivere da schiavi nella loro terra, nella terra che era loro da secoli e quindi prendono le navi, salpano e lasciano l'Irlanda. Diventeranno, questo nel 600, dei cavalieri di ventura, diventeranno, metteranno la loro spada al servizio dei vari re di Spagna, di Francia, di Austria, eccetera, pensate che ancora nell'800, cioè quando ci sono i moti risorgimentali nel 1849, quando ci sono le 5 giornate di Milano, il governatore di Milano si chiama O'Donnell, cioè la storia ci ricorda solo Radeschi, che era il capo militare, ma il governatore di Milano si chiamava O'Donnell ed era austriaco e discendeva dai nobili irlandesi appunto fuggiti. Il problema è che però, cioè fuggiti i nobili, gesto bello, gesto anche nobile appunto, dice non posso vivere qui da schiavo là dove per secoli i miei antenati hanno regnato, ma il popolo però rimane a questo punto sotto il dominio inglese. Tenta di sollevarsi altre volte. Nel 700, visto che prima l'amico Tommaso ha ricordato anche la Scozia, i legami con la Scozia, anche il mio personale amore per la Scozia, a metà del 700 la Scozia a sua volta, che aveva perso la libertà, che aveva perso l'indipendenza, che si era guadagnata col sangue ai tempi di William Wallace, la Scozia per l'ultima volta cerca di insorgere e di conquistare l'indipendenza con un principe, il principe Carlo Edoardo Stewart, in inglese conosciuto come il Bonny Prince Charlie, cioè il bel principe Carlo, che era nato in esilio perché suo padre era stato cacciato dagli inglesi e nasce a Roma, e a Roma tra l'altro è sepolto, e il Bonny Prince Charlie nel 1745 tenta la rivolta, tenta di insorgere, fa questa insurrezione in Scozia e con lui si uniscono anche gli irlandesi, sperando che un principe della casata degli Stuart, che era cattolica, possa ridare poi, possa riconquistare la Scozia per se stesso, per i suoi, ma che possa poi dare, ecco fermiamoci un attimo qua, e poi possa dare l'indipendenza anche all'Irlanda, però appunto il principe Charlie viene sconfitto nel 1746 vicino a Invernessi con una tragica battaglia e i sogni di libertà degli irlandesi, se vogliamo collegati anche ad una dinastia reale, si interrompono. Allora, poi alla fine del Settecento, allora svaniti un po' i sogni di restaurazione monarchica, si pensa, si sogna ad una repubblica, e così nel 1798 avviene una grande ribellione che ha come capo un certo Wolftone che sogna di appunto dichiarare l'indipendenza dell'Irlanda, di fare dell'Irlanda una repubblica, dice ormai non possiamo più affidarci a qualche nobile, a qualche pretendente, non possiamo più instaurare un trono di Irlanda e allora lottiamo per separarci e costituire una repubblica di Irlanda. Anche questa rivolta del 1798 viene soffocata nel sangue e con una durezza, come dire, senza precedenti, tant'è che per tanti anni l'Irlanda non riesce più ad alzare la testa. Riesce ad alzarla la testa nel 1829 con questo uomo che si chiama Daniel O'Connell. Chi di voi è stato magari a Dublino sa che la via principale, l'arteria di Dublino, si chiama O'Connell Street, c'è anche la statua dedicata a O'Connell e in O'Connell Street sorge l'ufficio postale generale, il General Post Office, che sarà il luogo, diciamo così, il quartier generale della rivolta del 1916. A quel tempo però quando c'è stata la rivolta si chiamava semplicemente Sackville Street, O'Connell lo diventerò dopo l'indipendenza. E questo Daniel O'Connell era un personaggio straordinario, era figlio di contadini, era nato nel sud dell'Irlanda nel Kerry e riesce, contadini abbastanza benestanti, che riescono a mandarlo a studiare all'estero, perché le leggi penali, le leggi anticattoliche prevedevano anche che un cattolico non potesse fare studi superiori, doveva rimanere bassa manovalanza. La terra era stata intanto tutta espropriata agli irlandesi, ai clan, eccetera, data dei grandi proprietari latifondisti inglesi e quindi con questi provvedimenti penali che impedivano un cattolico di studiare, rimaneva un popolo appunto in catena, un popolo senza una leadership. Lui riesce ad andare a studiare all'estero, va in Francia, si laurea in legge, diventa quindi avvocato e poi torna in Irlanda e da avvocato si batte per i diritti dell'Irlanda e così nel 1829 riesce a fare abolire appunto quelle terribili leggi penali che per secoli avevano tenuto i cattolici irlandesi nella clandestinità, nelle catacombe, tre secoli di catacombe praticamente. Riesce a far abolire queste leggi penali e quindi finalmente almeno la Chiesa riesce a uscire da questo stato di persecuzione. Però ovviamente non basta, occorre la piena libertà, occorre conquistarsi anche l'indipendenza e O'Connell continua a battersi. Adesso lasciamo scorrere le immagini di O'Connell, continua a farlo, fa delle adunate di massa, viene eletto al Parlamento di Londra, va al Parlamento di Westminster, va a Londra a cercare appunto di ottenere dei diritti per gli irlandesi. Poi però cosa succede? Nel 1845 si abbatte sull'Irlanda, vedete appunto è una sorta di partita scacchi che fa, era un diplomatico, era un vero e proprio politico, anche la sua lotta era appunto solamente politica, non era con le armi come era stato nel passato, cerca di conquistare con la forza del diritto la libertà per l'Irlanda. Però il suo sogno, fermiamoci qua adesso, il suo sogno si ferma nel 1845, quando dicevo sull'Irlanda si abbatte un'apocalisse. Allora, vi dicevo prima che la terra era stata espropriata, gli irlandesi quindi vivevano da schiavi, da servi sulla loro stessa terra. Tutto quello che coltivavano doveva andare ai loro proprietari, terrieri inglesi, il grano veniva tutto portato con le navi in Inghilterra e gli irlandesi campavano delle patate, cioè tutto quello che era i prodotti, il grano eccetera doveva andare in Inghilterra, a loro era concesso di vivere delle patate. Si calcola che avessero un consumo di patate pro capita altissimo. Cosa succede? Per tre anni di fila, tra il 1845 e il 1848, anche a causa dello sfruttamento insensato del suono da parte inglese eccetera, vanno a male per tre anni di fila i raccolti di patate. Era arrivato anche con le navi inglesi che arrivavano dall'America e facevano tappa a Dublino, un parassita che attacca le patate e li distrugge. E quindi una carestia terrificante. Avvenne che su 7 milioni di abitanti dell'intera Irlanda di allora, ne morirono un milione. Quindi pensate, 15% della popolazione, una massa enorme che moriva di fame. Un altro milione, milione e mezzo circa, si salvò e salvò anche quelli che erano rimasti a casa emigrando, lasciando l'Irlanda e andando in tutti quei paesi di lingua inglese dove ancora oggi a distanza di tempo ci sono delle grandi comunità irlandesi. La cattedrale di New York era dedicata a San Patrizio, quindi Stati Uniti, Canada, ben nella stessa vicina, perfino nella stessa vicina a Inghilterra eccetera, nel Sudafrica, in Australia, in Nova Zelanda e così via. Quindi salvarono se stessi e poi con le rimesse che mandavano a casa salvarono almeno in parte chi era rimasto. Questa vera e propria apocalisse ovviamente paralizza tutto quello che era stato anche la lotta politica al movimento politico e lo stesso Daniel O'Connell muore nel tentativo di trovare aiuto perché l'Inghilterra aveva impedito anche qualunque aiuto dall'esterno, aveva anche all'esterno minimizzato dicendo no, non sta succedendo niente, tranquilli. E allora O'Connell cosa ha fatto? Aveva preso la nave ed era venuto in Italia per cercare di andare a Roma almeno dal Papa per sensibilizzarlo e per chiedere aiuto. Sennò che appunto arriva dall'Irlanda, la nave fa tappa a Genova e a Genova si ammala di tifo e muore. E quindi questo, la morte di O'Connell, è un colpo durissimo alle speranze di indipendenza irlandese. E ci volevano anni perché l'Irlanda si rialzasse, si era questa mostruosità di questa, di questa, la chiamano ancora oggi in una parola gaelico Angorta Mor, cioè la grande morte, questa epidemia spaventosa, questa carestia che fece più di un milione di morti su un paese così piccolo. Ci volevano anni e ci vuole tanta fatica. E si ripartì ancora una volta appunto anche dalla richiesta, questo è un personaggio affascinante, si chiama Michael David, andiamo pure avanti, che si battè, aveva fondato un movimento per, si chiamava la Lega Terriera, appunto per ridare la terra agli irlandesi. Fu dopo O'Connell sicuramente il primo grande politico irlandese, aveva trascorso la maggior parte del, questo è il cottage dove era nato, aveva trascorso la maggior parte dei suoi anni, peraltro in galera, nelle galerie inglesi, perché appunto il solo fare attività politica per chiedere dipendenza dell'Irlanda, aspetta lascio, sì, fermo pure, beh no, lasciamo andare, perché poi di questo ne parleremo. Comportava l'arresto e l'imprigionamento, quindi questo era appunto Michael David. Sblocca pure che, ok, andiamo avanti. Ci avviciniamo alla rivolta del 16, ci avviciniamo, questo che vedete è il manifesto, scritto in galico e in inglese, che fu letto il lunedì di Pasqua del 1916. Come si arriva a quella rivolta di Pasqua? Come si arriva agli eventi di cento anni fa? Dopo la tragedia della grande carestia, eccetera, eccetera, dopo questi tentativi di riprendere affare politica con una appunto lega terriera che rivendicava i diritti di chi lavorava alla terra, alla fine dell'Ottocento nasce un altro tipo di movimento, come dire, politico, culturale in realtà, perché fare politica era quasi impossibile, fare politica, come dire, chiedendo anche certe cose come l'autonomia, l'indipendenza, eccetera. E allora alla fine dell'Ottocento invece nasce un grande movimento culturale che era la Lega Gaelica, che si proponeva di recuperare tutta l'eredità celtica dell'Irlanda antica. Cioè, dicevano, noi non siamo semplicemente una provincia di un impero, non siamo una sorta di appunto appendice dell'Inghilterra, siamo una nazione che ha una sua storia, che ha una sua cultura, che ha un suo passato, che aveva una sua lingua, che appunto ormai pochi parlavano perché era stata proprio repressa con la forza della legge. E allora cominciano piano piano proprio dal basso, con un lavoro culturale, cominciando a parlare gaelico, cominciando a scrivere in gaelico e cominciando anche a raccontare le gesta dell'Irlanda antica. E così allora che si fanno avanti anche appunto personaggi, come diciamo prima, William Butler Yates, tra l'altro anche al di là delle confessioni religiose, perché molti di questi protagonisti della rinascita gaelica erano magari di origine inglese, come Yates, come Lady Gregory, eccetera. Però a un certo punto, perché? Questo perché? Perché l'Inghilterra, che allora nel 600, facciamo un passo indietro alle rivolte del 600 e del 700, faceva fatica a mantenere il controllo sull'isola solo con delle guarnigioni militari. E così a un certo punto, in alcune contè del nord, con le più vicine appunto alla Scozia e l'Inghilterra, fece affluire decine di migliaia di coloni che occuparono le terre che erano state appunto espropriate ai loro legittimi proprietari irlandesi. È lì che nasce la cosiddetta questione dell'Alster, sicuramente molti di voi avranno sentito parlare di questa questione che fino a pochi anni fa, come dire, appariva spesso anche sulle croniche dei giornali, eccetera, eccetera. La questione dell'Alster spesso, o meno che in Italia, non è stata inquadrata nella sua giusta dimensione. Io spesso mi sostituo a dire, vabbè, ma questo cos'è, perché queste guerre di religione, cattolici e protestanti, in realtà era una guerra, oppure guerra civile, ma perché si devono ammazzare tra irlandesi? In realtà era una guerra coloniale, cioè tra un popolo di autoctoni, di indigene, di chi lì c'era nato, c'era sempre vissuto, e chi invece c'era arrivato e l'aveva occupata questa terra. Certo, per certi versi la religione c'entrava perché era un elemento discriminante, perché per ottenere dalla corona quelle terre, venire lì, occuparle, eccetera, e diventare sudditi leali, tant'è che molto spesso la parte, diciamo così, nord-irlandese protestante in realtà preferisce chiamarsi, farsi chiamare lealista, i lealisti, i loyalist. E lealisti a chi? Lealisti a chi gli aveva mandati, al governo inglese, alla corona inglese, e l'essere protestante era parte di questo tipo di identità. Quindi serviva anche a discriminare il colonizzatore dal colonizzato. Quindi c'era questa grande componente, notevole componente, in certe contee, ma alcuni di questi protestanti smisero a un certo punto di diventare lealisti. O meglio, diedero la loro lealtà a quella che scoprirono, sentirono essere la loro vera patria, la loro comunità di destino. Dissero, ma noi ormai siamo irlandesi, i vari Yeats, Lady Gregory e così via, dissero, noi ormai, cioè, siamo qui da secoli, questa è la nostra terra, l'amiamo anche noi, la condividiamo anche noi insieme agli irlandesi, cattolici, eccetera. Siamo irlandesi anche noi. Per cui fecero una scelta, per alcuni poi lo vedremo, fu anche una scelta pagata col sangue, di dire, io non sono più un inglese che vive in Irlanda, io sono un irlandese. Poco conta la fede religiosa, sono un irlandese. E così diventarono i protagonisti di questa rinascita, di questo graduale recupero della propria identità, che era anche popolare, perché voleva dire partire anche dal recupero della musica, che era stata a lungo proibita. Perfino degli sport, alla fine dell'Ottocento si riscoprono gli antichi sport gaelici, come il calcio gaelico e l'harling, che si praticano ancora oggi. A Dublino c'è uno stadio, che è il secondo stadio più grande d'Europa dopo il Camp Nou di Barcellona, ed è uno stadio dove si giocano esclusivamente sport gaelici, si chiama Croc Park, e prende il nome, pensate, da un arcivescovo. Perché appunto ci fu un arcivescovo alla fine dell'Ottocento, che oltre che essere un pastore d'anime, era anche un ardente patriota. Naturalmente non poteva fare politica in quanto vescovo, ma fece, mise in atto tutta una serie di politiche culturali a favore del recupero di questa identità anche sportiva. Che trovò poi bocco anche in sport inglesi, come per esempio il calcio, con una squadra che c'è ancora oggi, non so se è in giro il mio zainetto, vi faccio capire cosa sto dicendo. Questa squadra, il Celtic di Glasgow, fu fondata dai migranti irlandesi a Glasgow, appunto tanti erano scappati, oltre che in America o lontano, anche nella vicina Scozia, dove erano discriminati, dove erano tenuti quasi isolati in ghetti particolari e per il loro riscatto, per il loro orgoglio, fondarono questa squadra. La fondò addirittura un prete e questa squadra diventò ben presto una delle più importanti squadre di tutta la Gran Bretagna e è stata la prima squadra non latina a vincere nel 67 la Coppa dei Campioni. Quindi piccola parentesi. Qui si è fermato, lo possiamo lasciare andare avanti dopo tutto. Beh no, diciamo ancora due cose a partire dal manifesto. Questo appunto, poi vi leggerò magari anche qualche cosa di questo manifesto dell'indipendenza. Dicevo, anche le canzoni furono importanti, furono un modo di recuperare la propria identità, canzoni che parlavano ad esempio anche della carestia. Qualcuno di voi ha mai sentito quella canzone straordinaria che è The Fields of Outerai? Sì. Dopo magari la cantiamo alla fine insieme, a microfoni spinti. Sì, sì. E parla proprio della carestia. Tra l'altro la storia è quella di, racconta di un ragazzo, un giovane padre di famiglia, che viene arrestato perché aveva tentato di, era andato, aveva assaltato potremmo dire il Granai, dove era pieno di grandi irlandesi, perché appunto una delle cose più atroce della grande carestia è che gli irlandesi morivano perché non avevano più le patate, mentre i Granai erano pieni di un grano che doveva essere sorvegliato dai soldati portato in Inghilterra. E facci la canzone e dice Michael, tu hai cercato di prendere il grano di Lord Trevelyan e adesso, perché è stato condannato alla deportazione, lo portavano in Australia. E al di là del muro della prigione c'è questo dialogo che avviene tra i due, tra Michael e Mary, e gli dice sì, adesso io, cioè ci stanno strappando l'uno all'altro, a te rimane il nostro figlio e quello che dovrai fare, il tuo compito è crescerlo nella dignità. E questa canzone viene cantata ancora oggi, viene cantata negli stadi, viene cantata nei pub, è una canzone stupenda del First Father Ray, dice tanto. E queste canzoni se le portavano anche magari in Australia, in America, nelle migrazioni eccetera. Ma torniamo a noi, quindi la lega gaelica come grande protagonista, però non bastava fare cultura. E allora nel 1904 nasce anche un partito che il cui nome la dice lunga. Il partito si chiamava, aveva un nome gaelico e si chiamava Sinn Féin, che vuol dire in gaelico noi soli. Perché molto spesso l'Irlanda si era affidata, anche nel passato aveva affidato le proprie speranze ad altri, al principe Charlie che arrivasse eccetera. La rivolta del 1798 di Wolftone, lì addirittura l'Irlanda aveva guardato con speranza a Napoleone Bonaparte. In quel momento l'Inghilterra era in guerra con Napoleone, quindi gli irlandesi Wolftone aveva contattato Napoleone dicendogli, secondo una logica che poi è tornata, è tornata poi anche nel Novecento, lo vedremo. Il nemico del mio nemico è mio amico, ma non è sempre così. La cosa può essere a volte anche pericolosa, non sempre. L'avere in comune un nemico vuol dire avere in quello stato, in quel personaggio, un interlocutore vaido. Napoleone se ne strafregò degli irlandesi non gli importava nulla e appunto loro fecero, partirono con l'insurrezione sperando che poi arrivasse lui sbarcando eccetera eccetera, che tatticamente era anche interessante, dice vieni qua, apri un focolaio di guerra qua che ti distrae l'Inghilterra dagli impegni, dai fronti continentali, niente. A questo punto dopo tante disillusioni si dissero, cioè noi soli, noi soli, Sinn Fein, cioè appunto facciamolo con le nostre forze, risolleviamoci con le nostre sole forze. E questo partito quindi cominciò a svolgere un'azione politica che non era facile per ottenere almeno, dicevano loro, l'autonomia, la cosiddetta home rule, cioè governo di casa. Quando però si cominciò a ventilare questa possibilità di arrivare a una legge del genere, i protestanti, o meglio i lealisti del nord dell'Alster, dissero no, non ci stiamo. E cominciarono ad armarsi con una serie, costituire dei corpi paramilitari, che facevano spesso anche delle violenze assolutamente gratuite verso la popolazione cattolica per far capire che cosa sarebbe successo se l'Irlanda si fosse resa autonoma, nemmeno dipendente, autonoma. A questo punto anche l'Irlanda cominciò, anche gli irlandesi cominciarono ad armarsi. A questo punto si trattava quasi di una autodifesa. E cominciarono a nascere dei corpi che vennero chiamati semplicemente Irish Volunteers, cioè i volontari irlandesi. Cominciarono ad addestrarsi e così via. E ormai appariva quasi chiaro che l'unico modo per conquistare la libertà sarebbe stato questo, un'insurrezione armata. Però avvenne qualcosa d'altro a livello internazionale. Nel 1914, come sappiamo, scoppia la Prima Guerra Mondiale. A questo punto lo Sinn Féin si spacca. Perché c'è chi dice, soprattutto uno dei suoi leader, che forse si potrebbe proporre un patto all'Inghilterra. Perché dovete sapere che per secoli, anche adesso è così, Allora, l'esercito britannico, che pure è uno dei più grandi eserciti del mondo, è un esercito di puri volontari. Non esisteva la coscrizione, non è mai esistuta la coscrizione obbligatoria. È stata fatta solo nella Prima Guerra e nella Seconda Guerra Mondiale. Poi basta. Allora, cosa succede? C'era bisogno, ovviamente, di volontari che si arruolassero. Allora questo leader dello Sinn Féin dice, bene, facciamo un patto con l'Inghilterra. Noi diciamo ai nostri ragazzi di arruolarsi in massa nell'esercito inglese, di andare a combattere sul continente per l'Inghilterra, gli facciamo vincere la guerra, c'è anche un po' di presunzione tipicamente irlandese, noi gli facciamo, con il nostro valore, gli facciamo vincere, gli facciamo battere la Germania, in cambio chiediamo l'autonomia, chiediamo l'indipendenza. Altri invece, all'interno del movimento, dicono, ma no, ma cosa c'entra? Ma perché dobbiamo, il Kaiser non è il nostro nemico, la Germania non è il nostro nemico, perché dobbiamo mandare i nostri giovani a morire nelle trincee della Somme, in cui viene proprio i carnai che erano questi, cioè, cominciavano già a arrivare le notizie di quello che accadeva su quel fronte, perdite mostruose. Perché dobbiamo mandare i nostri ragazzi al massacro? Per chi? Per un re che non è il nostro re, per un paese che non è il nostro re, però alla fine del movimento prevale la componente, come dire, virgolette, collaborazionista con l'Inghilterra. E così appunto avviene questo movimento di... vengono esortati i ragazzi irlandesi ad arruvolarsi e così via. Dopo due anni, nel 1916, ed eccoci quindi alla rivolta, ci si rende conto, tristemente, drammaticamente, che l'Inghilterra ha preso in giro l'Irlanda. Certo, le sorti della guerra erano ancora incerte nel 1916, era ancora un po' tutto da vedere, però ormai era chiaro che l'Inghilterra non aveva mantenuto il suo patto. Anche perché, poi andiamo avanti, lo troviamo, un personaggio che si chiamava Roger Casement, e lo vedremo dopo, che era stato un diplomato, era nato in Irlanda, ma appunto era un irlandese del nord, protestante, quindi con ascendenza inglese, eccetera, eccetera, che era stato console inglese addirittura, ed era stato fatto addirittura baronetto, era Sir, era Sir Roger Casement. Questo Sir Roger Casement, però, non è questo, è Arthur, questo è Thomas Clark, dopo vi spiegherò chi è. Questo Roger Casement, anche proprio nella sua attività diplomatica, da diplomatico inglese, e diplomatico voleva dire avere anche contatti con i servizi segreti, si era reso conto delle porcherie che l'Inghilterra aveva fatto un po' in tutto il mondo, a partire dall'Irlanda. Ecco, questo è Roger Casement. Ecco, Roger, Sir Roger, a un certo punto ha una conversione clamorosa, perché, ripeto, è un diplomatico, è un uomo che sicuramente aveva lavorato con i servizi segreti, diventa, cambia radicalmente le sue posizioni, recupera appunto, acquista la sua identità irlandese, anche lui fa quel passaggio che dicevo prima, direi, ma scusate, ma io sono irlandese, perché devo continuare a lavorare per una... si dimette, infatti, dal servizio diplomatico, torna in Irlanda e diventa uno degli organizzatori. Grazie anche ai suoi contatti di intelligence, nel 1916 riesce a sapere che l'Inghilterra non ha nessuna intenzione di mantenere le promesse fatte. Così, tra l'altro, lui fa anche una cosa che gli costerà praticamente la vita, perché invece lui va in Germania, va nei campi di concentramento dove c'erano i prigionieri britannici, e si rivolge ai prigionieri irlandesi dicendo, passate da questa parte. Cioè, lui diventa amico di un giovane ufficiale, che poi troveremo anni dopo, molto famoso, Franz von Papen, che diventa un suo amico, diventa il suo riferimento, e lui dice, voglio fondare una brigata irlandese, portando via questi prigionieri, e portandoli invece a combattere per l'Irlanda. E cerca appunto anche l'aiuto dei tedeschi. Dice, se voi ci date armi, ci date munizioni, eccetera, eccetera, noi abbiamo una possibilità di fare una rivolta a questo punto. Però chiede anche ai tedeschi di fare qualcosa, di fare quello che vi dicevo, già avevano chiesto a Napoleone. Fate, sbarcate in Irlanda, sbarcate almeno in alcuni porti, tenete impegnata la marina inglese, e nel frattempo noi facciamo partire un'insurrezione, che vedrete cosa succederà. Siamo pronti, ma ancora una volta appunto gli interlocutori, ancora una volta si rivela vero appunto che bisogna fare da soli Sinn Féin, perché la Germania non sembra interessata, non è interessata a questa brigata che lui pure forma, eccetera, eccetera. Così, a quel punto lì, lui decide di farsi portare indietro in Irlanda, perché arrivano le notizie che comunque i capi, i capi di quella parte dello Sinn Féin che aveva deciso di passare all'azione, vogliono fare questa azione determinante a Pasqua del 1916. Roger allora si fa portare indietro sul sottomarino tedesco, perché vuole raggiungere i ribelli e dire, aspettate, aspettate almeno un attimo, intanto vi porto sul sottomarino e gli portano le armi. Senonché lui, durante il viaggio, lui era stato molto tempo, vent'anni in Africa appunto, nel servizio diplomatico, eccetera, gli viene un attacco di malaria, ha una febbre a 40, i tedeschi si spaventano, non vogliono che gli muoia sul sottomarino, per cui lo sbarcano su una scialuppa, lo buttano le armi a mare, e lo sbarcano su una scialuppa, lui arriva su una spiaggia, e lì sono, tra l'altro avevano anche, come dire, sottomarino nelle comunicazioni, si era fatto intercettare dai servizi inglesi, e quindi su quella spiaggia trova pronti i soldati inglesi che lo arrestano, lo portano a Londra, e poi dopo verrà impiccato. Andiamo avanti, perché siamo arrivati quindi, quindi lui non riesce ad arrivare in tempo, a dire aspettate o quantomeno, ecco le armi per la rivolta. Ormai gli irlandesi, veramente, questo è sempre Roger, gli irlandesi a questo punto non ce la fanno più, ormai è fatta, la decisione è presa, il 24 aprile scoppia la rivolta, che è una rivolta anche, come dire, composita, c'è dentro un po' di tutto, c'è dentro gente che viene dalla Lega Gaelica, che aveva sempre fatto solo e semplicemente un lavoro culturale, ci sono invece magari i volontari che si erano addestrati, c'erano i servizi d'ordine di alcuni sindacati, i sindacati dei portuali, che erano tipi, ecco, guidati da quest'uomo, che si chiamava James Connolly, James Connolly era un leader sindacale, era un socialista, ecco, tra l'altro appunto, pur di riuscire ad abbattere questo potere sempre più oppressivo, si era deciso di costituire un unico grande centro di comando, un unico grande corpo di ribelli, andando oltre anche le differenze ideologiche, per cui c'era chi come Connolly era socialista, chi invece proveniva dalla Gaelic League, e così via, e il 24 aprile, questo pugno di, questo è sempre Connolly, questo pugno di sognatori, potremmo anche dire, perché a questo punto, la rivolta aveva delle possibilità di successo, senza neanche le armi, questo Imon Kent, che è un altro, invece lui era uno profondamente cattolico, quindi c'era dentro davvero un po' di tutto, e la ribellione, ecco tra l'altro Imon Kent, che suonava la corna musa, Imon Kent fu quello che disse, quella frase che io ho voluto mettere, appunto come titolo del libro, non abbiamo possibilità di farcela, abbiamo di fronte a noi l'esercito più forte del mondo, sappiamo che andiamo incontro ad una sconfitta praticamente certa, questo è un altro, si chiamava Joseph Planket, anche lui, abbiamo di fronte a noi la prospettiva della sconfitta, probabilmente della morte, eccetera, ma lo dobbiamo fare, dice, aspetta fermati qua, dobbiamo farlo per l'onore di Irlanda, ce lo chiede l'onore di Irlanda, questo è un altro personaggio fantastico di questa ribellione, era una contessa, si chiamava Constance Markiewicz, tratto con un nome non irlandese, ma era sposata Markiewicz, in realtà appunto era una ricca irlandese, anche lei di origine protestante, che a un certo punto fa anche lei il passaggio, il salto decisivo, e dice, ma questa è la mia patria, non l'Inghilterra, mi batterò per l'Irlanda, appunto aveva sposato, era andata in Francia, eccetera, era tra l'altro un artista, una pietrice, in Francia aveva conosciuto un esule polacco, un conte, il conte di Markiewicz, poi lei torna in Irlanda, ma userà sempre questo nome, era una donna, che appunto fu la protagonista, una delle protagoniste della rivolta, tra l'altro, teneva le posizioni più difficili a Dublino, perché, dicevo, quando scoppia la rivolta, ci sono alcuni capisaldi, viene preso il general post office, cioè l'ufficio postale, che diventa il luogo, il quartiere generale, poi vengono occupate alcune fabbriche, vengono occupate alle stazioni, lei occupa il cuore nevralgico della città, il parco di St. Stephen, se qualcuno di voi è stato a Dublino, è questo bellissimo parco che c'è nel cuore di Dublino, lì scava trincee, erige barricate, eccetera, perché è su un crocevia di strade fondamentali, lo Stephen Green, e difende questa posizione sotto il tiro per giorni e giorni, sotto il tiro dei cannoni inglesi, delle mitragliatrici, eccetera, eccetera. E ci sono altre foto, non so se siete riusciti a trovarla, in cui lei, ecco, la sua uniforme, tra l'altro aveva fondato anche una brigata femminile, la Kumangael, cioè le figlie di Irlanda, una brigata tutta di combattenti femminili, immagino, non molto bella, e non si è uno di quelli che, come dire, alla fine si è arresa solo quando è arrivato l'ordine, questo è sempre Constance con la sua divisa, e fu uno dei pochi che si salvò, perché appunto la rivolta viene schiacciata, ecco, fermati va, questo è Patrick Pierce, questo era, come dire, il genio, l'architetto della rivolta, della ribellione, era, vedete qua, sembra un tranquillo signore, infatti era un insegnante, aveva fondato una scuola, che era una scuola dove si doveva recuperare tutta la cultura gaelica antica, era anche una scuola cattolica, anche se non con i preti, era proprio, come dire, ispirata ai principi della fede e ai principi della propria identità, e quindi vi si insegnava il gaelico, vi si insegnava la mitologia antica, eccetera, era un poeta, era un visionario, si chiamava appunto Patrick Pierce, e fu lui, a leggere il 24 aprile, la proclamazione di indipendenza, era lui il capo del governo provvisorio, adesso vi leggo solo alcuni stracci, perché, e inizia così, appunto, questo è il testo letto, con voce rotta dalla commozione, da parte del poeta guerriero, così appunto, lo definivano, un poeta guerriero, il governo provvisorio della Repubblica d'Irlanda, al popolo irlandese, donne e uomini d'Irlanda, in nome di Dio, e delle generazioni passate, da cui essa riceve la sua antica tradizione di nazione, l'Irlanda, per mezzo nostro, raccoglie i suoi figli sotto la sua bandiera, e si batte per la libertà. Proclamiamo il diritto del popolo irlandese al possesso dell'Irlanda, all'illimitato controllo dei destini irlandesi e alla irrevocabile sovranità. La lunga usurpazione di tale diritto da parte di un popolo e un governo straniero non lo ha estinto, non potrà mai essere estinto se non con l'eliminazione dell'intero popolo di Irlanda. Di generazione in generazione, gli irlandesi hanno rivendicato il loro diritto alla libertà nazionale e alla sovranità. Per ben sei volte nei passati 300 anni l'hanno rivendicato con le armi, basandosi su quel fondamentale diritto e rivendicandolo di nuovo con le armi di fronte al mondo, con il presente documento proclamiamo la Repubblica di Irlanda come Stato indipendente e sovrano e impegniamo le nostre vite e le vite dei nostri compagni d'armi nella causa della sua libertà, della sua prosperità e del suo prestigio fra le nazioni. E poi ancora finisce con queste parole commoventi «Poniamo la causa della Repubblica di Irlanda sotto la protezione dell'Altissimo, a cui chiediamo la benedizione sulle nostre armi e preghiamo affinché nessuno che servi quella causa la disonori con la codardia, inumanità o violenza. In questa suprema ora la nazione irlandese deve, con il suo valore, la sua disciplina e la prontezza dei suoi figli, sacrificarsi per il bene comune, dimostrarsi degna del maestoso destino al quale chiamata. i firmatari del governo provvisorio, che appunto furono, li abbiamo visti, li vedremo ancora, Thomas Clarke, Thomas McDonough, Sean McDermott, Imon Kent, Patrick Pierce, Joseph Plunkett e James Connolly. Era davvero una nazione ancora. C'è un'altra di queste canzoni irlandese così belle che si chiama A Nation Once Again. Non so se l'avete mai sentita. Una nazione ancora una volta. Adesso andiamo pure. Dicevo allora per cinque giorni si battono. Si battono, ecco queste sono le località che vi citavo prima, che avevano occupato e così via. Si battono contro un esercito che viene, loro sono poche migliaia, e invece ogni giorno l'esercito inglese viene alimentato da quelli che arrivano, che sbarcano. Addirittura questo è Imon De Valera che poi diventò, che è un po' trattato male dal film Michael Collins e lì, se volete, poi vi dico anche perché la tesi di quel film io non la condivido, è proprio contro De Valera perché il regista Jordan appartiene a quel tipo di intelligenza irlandese progressista che vuole liberarsi dai retagi dell'identità irlandese, cattolica, eccetera. De Valera nel film viene mostrato come colui che ha portato, come dire, quasi che ha ordinato la morte di Collins perché De Valera da un certo tipo di cultura liberal, radical, chic irlandese, visto come quello che appunto lui era stato l'unico che è sopravvissuto della mattanza degli eroi del XVI. Poi quindi diventò in seguito Presidente, Capo del Governo, poi Presidente della Repubblica, e venne accusato di aver sostanzialmente instaurato un governo, come dire, tradizionalista, cattolico, bigotto, accusato di questo, cioè la storiografia, diciamo così, progressista irlandese lo descrive così. Per cui il film in qualche modo l'ha voluto diffamare per dire sì, hai fatto tanto quello retto, il punto cattolicone, eccetera, eccetera, ma in fondo tu eri uno di quelli che voleva, mentre Michael Collins voleva l'accordo con gli inglesi, anche la spartizione dell'isola, tu sei andato avanti e volevi portare avanti la tua guerra e ti sei anche liberato di un avversario politico scomodo come Collins. Perché si salvò? Dicevo prima di tutti i capi, perché i capi vengono tutti giustiziati, perché dopo cinque giorni di battaglia a un certo punto non era più molte posizioni, erano andate perdute e poi soprattutto gli inglesi avevano cominciato a colpire la popolazione civile. Avevano portato nel porto Dublino la Royal Navy, la marina britannica, con le corazzate, avevano cominciato a sparare con i cannoni navali, che sono i più rossi cannoni che esistono, sulla città. Poi dopo andremo a parte, ma penso li avete già visti, le immagini del centro di Dublino devastato dalle bombe. Quindi cominciano a esserci peggio dalla popolazione civile. Anche episodi di violenza gratuita, un ufficiale inglese che ammazza un bambino pestrata, c'è di tutto. Per cui allora Patrick Pierce e gli altri decidono di dire arrendiamoci, non ce la possiamo più fare, arrendiamoci. E quindi si arrendono. La bandiera irlandese viene ammainata, tutti vengono portati, ecco vedete questo è De Valera ammanettato, vengono condotti in un carcere e vengono, c'è una farsa di processo fatta da un tribunale, qui non ho capito perché questa foto con un cappello da indiano, forse perché è andato in America e vengono quindi con un processo farsa tutti condannati a morte e vengono tutti fucilati. Addirittura James Connolly che durante gli scontri e i combattimenti era stato ferito abbastanza seriamente viene portato davanti al protone di esecuzione, questo è Collins, viene portato davanti al protone di esecuzione in barella, poi la barella viene tirata su in verticale e viene fucilato così, questo è sempre Collins, che nella rivolta del 16 aveva in realtà un ruolo molto minoritario, era un volontario come tanti altri. e alla fine non vengono fucilati solo la contessa Constance e De Valera per due motivi, uno, all'ultimo momento il governo inglese temeva che fucilare una donna potesse avere una ripercussione sull'opinione pubblica anche britannica eccetera eccetera, per cui l'avevano già condannata a morte ma il mattino all'alba lei era pronta ad andare davanti al protone di esecuzione e gli arriva la grazia. Quindi cannoneggiare le case si può fare però non c'erano la nonna diplomaticamente è compromettente. Tra l'altro Constance anche qua vi dicevo era di fede protestante però aveva deciso di aderire alla causa comunque nazionalista irlandese però dopo aver combattuto fianco a fianco ai suoi a questi suoi compagni d'armi eccetera eccetera avrebbe visto anche i ribelli con magari il rosario legato al fucile prima di farsi fucilare la sera prima si converte riceve il battesimo e diventa cattolica. L'altro graziato all'ultimo momento è De Valera perché De Valera era nato negli Stati Uniti era figlio appunto di un emigrante anzi di una donna irlandese perché il cognome lo sentite De Valera non è un cognome irlandese suo padre era spagnolo e sua madre era irlandese poi suo padre morì quando lui era bambino e allora la madre tornò indietro tornò in Irlanda e quindi lui è cresciuto in Irlanda ed era irlandese si sentiva irlandese al 100% il suo avvocato ebbe questa idea geniale di far valere il fatto che essendo nato negli Stati Uniti aveva una doppia cittadinanza quindi non potete fucilare un cittadino americano e solo per questo fu graziato i pochi che appunto quelli che non quelli che venivano graziati vedete questo sono i combattimenti strada per strada con le case devastate dai cannoneggiamenti dai mitragliamenti eccetera eccetera questa fu appunto la rivolta di Dublino di quel 1916 ecco abbiamo visto finisce finisce con con questa tragedia finisce con questo bagno di sangue e finisce con con la sconfitta la fucilazione di tutti i capi meno meno De Valera e Costanz che insieme ad altri diciamo così ufficiali subordinati pesci piccoli vengono però tutti deportati in Inghilterra condannati all'ergastolo però poi finita anche la guerra tra l'altro aveva ragione Roger Casement quando diceva aspettiamo perché magari succederà qualcos'altro lui aveva queste informazioni e aveva avuto il sentore che l'Inghilterra avrebbe introdotto e così lo fece la coscrizione obbligatoria che avvenne l'anno dopo e quindi anche questo cioè a quel punto non era più questione di dire facciamo questa specie di scambio noi andiamo a combattere per gli inglesi loro ci danno la libertà ovviamente tutti gli irlandesi venivano portati al fronte al fronte inglese e questo ebbe un impatto negativo sull'opinione pubblica perché i nostri ragazzi devono essere mandati al massacro e poi anche fu un clamoroso autogol la violenza con cui poi gli inglesi repressero la rivolta di Dublino ma andarono avanti cioè instaurarono in tutta l'isola la legge marziale e quindi vedete come l'ha conciato come era questa è appunto l'attuale O'Connell Street era la bombardarono come se fosse stato come un bombardamento aereo una cosa una cosa pazzesca l'obiettivo però nonostante tutto fu raggiunto nel senso che quel questo questo moto di ribellione gli irlandesi per tanto e troppo tempo erano stati schiacciati schiacciati dalle tante sconfitte dalla carestia eccetera eccetera e quasi non osavano più alzare la testa in quella Pasqua del 1916 l'Irlanda rialzò la testa e anche se appunto successe avvenne questa sconfitta ormai si era messo in moto un movimento che non poteva essere più fermato così nel nel 1919 De Valera liberato dalle carceri inglesi tornò in Irlanda gli inglesi fecero questo con una specie di atto di clemenza proprio un'amnistia perché era finita la guerra dice abbiamo vinto e adesso vabbè tornate pure a casa anche voi cialtroni irlandesi tanto ormai e invece tornano a casa e formano De Valera Costas Marchewitz che diventò la prima donna al mondo ad essere ministro di un governo fu fatta ministro del lavoro formarono di nuovo ci riprovarono dichiararono di nuovo l'indipendenza ripresano in mano la dichiarazione della Pasqua e addirittura questa volta formarono un governo provvisorio a questo punto gli irlandesi o meglio gli inglesi dichiarano guerra e mandarono in Irlanda tutta una serie di perfino dei corpi paramilitari costituiti da delinquenti cioè andavano nelle carceri e proponevano agli ergastolani un'alternativa dice ti liberiamo se vai a combattere in Irlanda formarono delle truppe speciali chiamate Black and Tans che proprio erano cioè non erano dei militari non avevano nessun rispetto delle regole cioè devastavano saccheggiavano stupravano tutto questo dura fino al 1921 quando dopo appunto quindi quasi cinque anni dopo questa rivolta alla fine l'Inghilterra è costretta a concedere lo stato di lo status di free state libero stato non era ancora l'indipendenza non era la repubblica ma era già un grosso una grossa conquista anche se appunto tennero sei contè del nord separate e costituirono quello stato artificioso che è appunto il Northern Ireland o meglio uno stato una provincia che parte ancora del del Regno Unito siccome abbiamo parlato anche di canzoni io volevo chiudere con una una canzone che è la canzone che ricorda questa questa questo martirio ed è una canzone anche questa molto famosa molto bella che si chiama Foggy Dew penso che qualche volta l'abbiate sentita Foggy Dew anche questo cioè venne scritta quando si riunì per la prima volta il Parlamento Irlandese questo Parlamento clandestino non riconosciuto che anzi aveva provocato poi una sorta di dichiarazione di guerra l'invio di truppe eccetera eccetera in questo ai lavori della prima seduta del Parlamento era presente anche un sacerdote un certo padre O'Connor che scrisse questa questa canzone Foggy Dew e vi leggo semplicemente le ultime strofe i più coraggiosi caddero e nel silenzio le campane suonarono tristemente il Requiem per coloro che morirono in quella Pasqua di primavera il mondo guardò con stupore quei pochi uomini coraggiosi che sostenero la lotta perché la luce della libertà risplendesse nella nebbia di quel mattino tornai in quella valle cavalcando e il mio cuore piansi di dolore perché avevo lasciato uomini valorosi che non avrei mai più visto ma quando il mio pensiero torna a voi mi inginocchio e prego perché la schiavitù è fuggita quando voi o morti gloriosi siete caduti nella nebbia di quel mattino ecco caddero davvero se vogliamo torniamo anche ancora una volta a quelle parole di di Yeats no che dice morirono fu l'amore a spingerli a quel a quel sacrificio a combattere senza neanche la possibilità di vincere ma solo appunto per per l'onore del del loro paese ed è vero cioè da loro dal loro sacrificio è nata una una terribile bellezza dice Yeats appunto una terribile bellezza è nata da ora e per sempre ecco qui vediamo ancora anche delle immagini dei famosi Morales delle città del nord Irlanda che ricordano quegli avvenimenti quella lotta che poi appunto è proseguita nel corso di tutto il novecento perché la questione nordirlandese non si è mai esaurita e a dire la verità l'ultima volta che sono stato nell'Alster è stato l'anno scorso sì è vero gli accordi di pace stipulati nel 98 tengono ma si capisce che è ancora una questione irrisolta tant'è che appunto le celebrazioni del centenario del 1916 nell'Irlanda del nord non sono state permesse mentre invece si terranno appunto tutto il resto dell'isola nei prossimi giorni perché appunto il 24 aprile è il centenario di questa epopea di una piccola nazione se vogliamo una piccola nazione agli estremi confini dell'Europa ma che ha da insegnarci molto anche se adesso è vero l'Irlanda sta cambiando chi come voi è andato magari di recente ha trovato un paese cambiato diverso dove appunto c'è oggi il benessere e col benessere spesso arriva magari la dimenticanza anche dalla propria identità per cui non è un male questo centenario per gli irlandesi per ricordare appunto il sacrificio di quei dei quei martiri e per noi per renderci conto che davvero vale la pena dare la vita per un ideale in cui si crede anche quando magari non c'è possibilità di vittoria e l'unico motivo per cui lo si fa è per il proprio onore l'onore di sé l'onore dei propri cari l'onore del proprio paese grazie grazie a tutti grazie a tutti